chi siete fuggiaschi proprio come te io sono josh sono simon north questa è gerico un rifugio per chi non intende più essere schiavo non capisco credevo che gerico fosse un posto dove gli android vivevano liberi ma noi siamo liberi forse non è come lo immaginavi ma qui non ci sono padroni non apparteniamo a nessuno e sapevate che solo un androide poteva arrivarci vero soltanto chi è come noi può trovare gerico se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave capisco come ti senti ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato un tempo obbedivate agli umani e ora è la paura a governarvi non siete più liberi di prima avete soltanto cambiato padrone ti senti perso come tutti quanti noi non l'abbiamo scelto ci possiamo convivere nient'altro qui si è sicuro puoi restare per tutto il tempo che vuoi va a parlare con l'osi forse ti potrà aiutare sei tu lusi siediti fa vedere fermerò l'emorragia bevi questo dammi la mano hai avuto tutto e hai perso tutto hai visto l'inferno e ora l'inferno vivi in te il tuo cuore è tormentato una parte di luce e una parte di ombra quale prepara le tue scelte decideranno il nostro destino e l'inferno e Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 I magazzini della Cyber Life al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Sì. Ci sto. Sì. 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 Sì.